Aioh! Aioh! Ma che cos'è questa cosa qua? Una tigliera? Ma è tutta d'oro! Forse se la strofino esce il genio! Proviamo! Eccomi qua! Non aver paura! Sono il genio della tigliera! E visto che mi hai liberato dalla mia prigionia, hai solo un desiderio! Ok ok, guarda genio, ci ho già pensato! Io avrei sempre voluto andare alle Hawaii, fare del surf, suonare l'ukulele in spiaggia, vedere le danzatrici di Ula, bere del Mai Tai fino all'alba... Però, vedi genio, io ho paura di volare e soffro del mal di mare! Quindi, potresti costruirmi un ponte per gli Hawaii, così potrei andarci tranquillamente in macchina? No, 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 no! Guarda, è impossibile! Pensa alla logistica, i pali dovrebbero raggiungere i fondali dell'oceano, ci vorrebbero montagne di cemento armato e tangenti a non finire per fare accettare il progetto! No, no, no! Guarda, troppo complicato anche per me! Pensa a un altro desiderio! Allora, ho pensato! Io nella mia vita sono stato sposato e divorziato quattro volte! Le mie mogli dicevano sempre che non prestavo loro attenzione e che sono sempre stato con loro insensibile! Così desidero capire le donne! Insomma, sapere come si sentono dentro e che cosa pensano quando non mi parlano! Sapere perché piangono! Sapere cosa vogliono realmente quando dicono niente! E quando poi si arrabbiano con te e tu non sai proprio spiegartene il motivo! Vorrei sapere come farle veramente felici! Quindi, mi dicevi, quel ponte lì per le Hawaii, com'è che lo vuoi? A due o a quattro corsie? Grazie! 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 Grazie!